Ciao a tutti ragazzi, sono The Giant, ben ritrovati in questo nuovo video sul canale sto... mamma mia il caldo, il caldo allora, allora, come avrete detto dal titolo oggi parleremo di due argomenti principali il primo è l'arrivo di Fonseca e il secondo lo andiamo a spulciare un po' più là intanto vi invito a lasciare un bel mi piace, seguirmi su Instagram e attivare la campanella tutto lo trovate tutto in descrizione nel primo commento allora, Fonseca, capitolo Fonseca, per Fonseca è tutto fatto la Roma si è decisa a pagare la clausola di un paio di milioni di euro la clausola era inizialmente di 4 milioni di euro però la Roma e Fonseca stesso con il suo agente sono riusciti a tirare un tantino la presa ad abbassare così la clausola recessoria Fonseca quindi dovrebbe sbarcare a Roma lunedì anche perché i tempi stringono ragazzi dalla sentenza UEFA non abbiamo avuto buone notizie perché è stato temporaneamente sospesa quindi il Milan ora come ora andrà in Europa League tranquillamente a noi ci tocca fare i preliminari come tra l'altro è giusto che sia classifica alla mano quello che dobbiamo dire è che Fonseca può piacere o meno però per non piacere devono esserci delle motivazioni perché alla fine Fonseca non lo conosce nessuno abbiamo avuto uno scontro andate-ritorno l'anno scorso dove all'andata solo per miracolo è finita 2-1 per loro perché ci hanno presi a pallonate in una maniera incredibile il ritorno contrariamente all'andata abbiamo dominato noi come giusto che sia perché loro comunque avevano un vantaggio in termini di gol quindi loro toccava un attimino difendersi e dovevamo noi fare la partita però in quell'andata lì ragazzi noi non ci avevamo capito assolutamente niente cioè io l'ho studiato un po' Fonseca quindi ho delle mie motivazioni io non vado pazzo non vado pazzo perché Fonseca ha praticamente lo stesso gioco di Di Francesco pressing alto, difesa alta terzini che spingono a manetta pressing per 90 minuti l'unica cosa che li contraddistingue è che comunque a Fonseca piace molto tenere il pallone quindi il possesso palla un po' stile Guardiola mentre Di Francesco voleva partire sempre da dietro però cercava sempre la verticalizzazione quindi non amava molto il possesso palla quindi questa è un po' la caratteristica di Fonseca rispetto a quella di Di Francesco Fonseca è uno che ama attaccare cioè l'abbiamo ormai capito tutti predilige il 4-2-3-1 quindi in termini di modulo non andiamo a stravolgere più di tanto quello che abbiamo usato praticamente quest'anno alternandolo al 4-3-3 ripeto ama molto il gioco offensivo questo un po' mi preoccupa perché il primo dato che ero andato a vedere ve lo ho detto in uno scorso video era i gol subiti dallo Shakhtar che erano solamente 11 ma parliamo del campionato ucraino ragazzi in Italia questo gioco ti penalizza tantissimo perché ci sono tante squadre piccole soprattutto che in contropiede sanno giocare perché è il loro gioco le piccole contro le grandi è l'unico modo che hanno per provare a far qualcosa e mettere in difficoltà cioè quello di chiudersi a riccio dietro e partire in contropiede quest'anno fortunatamente la squadra che sapeva farlo meglio non ci sarà che il Chievo finalmente non me ne vogliono i tifosi del Chievo però il Chievo ragazzi mamma mia che due palle quindi Fonseca ma molto la ricerca degli spazi quindi in continuo movimento la squadra o laggato quindi questa è un po' la differenza la differenza tra i due allenatori certo per fare un gioco del genere devi avere alle spalle una preparazione atletica coi controcazzi ragazzi perché pressare e muoversi per 90 minuti per tutte le partite che avremmo noi non sarà facile in più devi avere una rossa abbastanza ampia perché abbiamo tre competizioni dobbiamo far girare bene la squadra quindi servirebbero almeno due giocatori per ruolo almeno quindi questo gioco qui purtroppo in Italia non è molto utile noi secondo me potremmo far bene in Europa perché l'abbiamo visto con Di Francesco in Europa il gioco di Di Francesco quello in pressing, ritmi alti va benissimo perché giocano tutti così in Europa nessuna squadra tranne le italiane si chiudono in difesa e ripartono in contropiede in Italia invece è un tantino diverso certo voi mi direte ma il primo anno di Di Francesco siete arrivati in semifinale siete arrivati i terzi in classifica certo certo perché poi lì dipende come sempre dai giocatori dalla testa che hanno i giocatori certo è che noi il primo anno con Di Francesco le azioni avversarie le prendevamo solo che avevamo un Cristo in porta che parava anche le bottigliette che lanciavano i paninari dagli spalti e parava anche quelle quindi parava anche i petardi quindi era un tantino diverso speriamo di fare bene speriamo di fare bene io non voglio cazziarlo e mazziarlo già dall'inizio perché ha fatto tanto per venire alla Roma si è ridotto l'ingaggio perché lì ne prendeva quasi il doppio ragazzi allo Shakhtar prendeva un botto di stipendio rispetto a quanto dovrebbe prenderne qui a Roma ha fatto di tutto per convincere lo Shakhtar ad abbassare la clausola quindi lui ha molta voglia di dimostrare che anche fuori dall'Ucraina lui riesce a far vedere quelle che sono le sue idee che mi sento un po' adani in questo momento e questo è ragazzi io non mi sento assolutamente di dire nulla in questo momento sono preoccupato perché ripeto per tutte le motivazioni che vi ho detto prima non è un gioco che in Italia purtroppo va bene è un gioco più alla spagnola alla inglese queste robe qui non lo so ragazzi io spero di essere di essere smentito anzi io voglio essere smentito assolutamente spero che gli facciano una squadra come lui voglia e non come è successo nel secondo anno con Di Francesco che gli hanno comprato praticamente giocatore la cazzo di cane e questo è si parla già di possibili giocatori che possono venire dallo Shakhtar si parla di Smaili si parla del 2000 che non ricordo sinceramente il nome si parla di Tyson magari viene Tyson certo l'unica cosa che sappiamo è che lui ama molto usare le ali col piede invertito quindi i giocatori che rientrano e tirano con il loro piede preferito quindi vediamo un po' vediamo un po' altro capitolo molto importante la notizia che sta uscendo in questi giorni in questo giorno oggi proprio Conte a quanto pare ha fatto sapere alla gente di Nainggolan che non rientra nei piani dell'Inter si parla di una voglia del giocatore di tornare a Roma sarebbe la sua prima destinazione sappiamo che lui non voleva andare via quindi tornare per lui non sarebbe un problema certo è che Marotta per non fare minusvalenza vorrebbe venderlo almeno 29 milioni di euro ed è una cifra molto alta per un giocatore che comunque si ha fatto gol pesanti l'anno scorso però ha avuto molti alte e bassi soprattutto a livello fisico quindi non so se la Roma sia disposta a spendere questa cifra non so se la Roma voglia riprenderlo il punto è chi ha voluto mandare via Nainggolan? Baldini quindi se è stato Baldini Baldini non lo rivorrà in qualunque caso se è stato Monci lì un attimino cambiano le cose perché con un nuovo DS potrebbero cambiare tutti gli scenari però io la vedo molto difficile potrebbe magari rientrare in un ipotetico scambio con Zecco perché io i Di Cardi sinceramente ci credo poco perché un giocatore del genere col suo carattere col carattere che ha quella donna che si porta dietro non è femminismo il mio è sul maschilismo scusate ma è proprio è risaputo che comunque non è un attacca non è un uomo che fa spogliatoio i Cardi sinceramente quindi io già di problemi abbiamo tanti poi non vorrei avere un giocatore che mi chiede ogni anno un milione di euro in più rispetto all'anno precedente sinceramente quindi preferirei non avere problemi di questo genere anche perché comunque prende molto di stipendio all'Inter prende quasi 7 milioni di euro 8 milioni di euro non lo so quindi se poi lui ha la voglia di rilanciarsi è un altro discorso perché col casino che è successo io non so quante squadre lo vogliano sinceramente tutti parlano perché dovrebbe venire a Roma se ci sono altre squadre più forti che lo vogliono ma dove sono queste squadre è da anni che si dice lo vuole il Real Madrid lo vuole il Manchester lo vuole il Napoli poi non si è fatto più niente quindi io non lo so se è una mossa della società per far abbonare la gente se è una mossa di Cardi una mossa di Vanda non lo so non so niente io ci credo poco sinceramente credo più ad uno scambio Zecco come contropartita a qualche giovane tipo Radu magari Radu ad averlo e niente questo ragazzi Nainggolan aspettiamo sviluppi certo è che a quanto pare Conte non lo ritiene adatto al suo gioco strano sinceramente perché io avrei visto molto bene Nainggolan in stile Vidal che poi secondo me è quello che farà Barella siccome Barella è da prendere assolutamente soprattutto a Fanta Calcio siccome Barella farà lo stesso percorso che ha fatto Vidal con la Juventus Barella io lo adoro mi dispiace vado all'Inter lo voleva la Roma però capisco che c'è chi fa la Champions e chi no poi Barella dovrebbe essere anche interista tra l'altro niente ragazzi questo è quanto vi invito a lasciare un bel mi piace mi raccomando attivate tutto Instagram sotto fatemi sapere come la pensate vorreste un ritorno di Nainggolan io non lo so non lo so io certo lo prenderei ma non a queste cifre sinceramente e fatemi sapere cosa ne pensate di Fonseca e quindi grazie